Allora di che si tratta? Mi stai facendo preoccupare, Sofia. Io ho fatto una cosa molto brutta nei tuoi confronti. Tu, una cosa brutta nei miei confronti. Ma cosa vuoi farmi? Sono tua cugina, tu stravedi per me. Dai, sei non sicura che non è niente di grave? Dai, dimmi. Io ti ho mentito. Mi hai mentito. E su cosa? Su tutta, tutta la mia vita. Era tutta falsa. Ma in che senso? Tutto. Sì, da bambini io ho sempre provato a essere migliore di te. Anche i miei amici, il mio fidanzato che hai visto al ballo di fine scuola. Non erano veri. Li ho pagati per fingere. E? Sì, mi dispiace. Mi dava molto fastidio di essere migliore di te. Ma adesso non mi interessa più. Infatti, ti dico la verità. Hai vinto la sfida. Sei tu migliore di me. Ok, odiami pure. Lo so, sono una persona orribile. Ah, ah. Beh, sai che ti dico? Cosa? Non vuoi più vedermi? No. Lo direi a tutta la mia famiglia? No. Lo direi a Giulia che lo pubblicherà sul blog? Ma certo che no. E cosa allora? Anche io. Anche io cosa? Anche io ho mentito sulla mia vita. Cosa? Sì, anche io. Tutti quei miei tre fidanzati che ho visto il ballo li ho pagati. Anche tutta la mia vita era grazie ai soldi che ero migliore di te. Insomma, è mio padre che mi aveva messo in testa questa cosa di essere migliore di te. Ma adesso ho capito che non serve. Insomma, ero superiore di te ma non mi sento meglio. Cioè, infatti quei tre ragazzi li ho lasciati. Lasciati tra virgolette perché non siamo mai stati insieme. Quindi io e te siamo allo stesso livello. Esatto. Dai, che ne dici di voltare le spalle al passato e andare a prenderci un bel gelato? Sì, andiamo. Ecco, prendo il cappello che ho comprato poco fa. Wow, che bello. Qualche volta me lo presti? Ma certo. Andiamo. Aspetta, spengo solo la tele. Ok, let's go. Mamma mia, che caldo in questi giorni. Già, niente. Lo combatto e da qualsiasi parte vado, in qualsiasi punto che mi trovo della casa, che mi giro, si cuoce. Già, anche essi sono all'ombra. Tipo qui, hanno messo il ventilatore, ma non è che fa molto. Già. Ma almeno qui ci sono dolci buonissimi. Già, che non mi fanno pensare al caldo nel momento in cui lo mangio. Già, appena lo finisci ti ritorno al pensiero. Ah, ci voleva un bel dolce alla pasticceria. Già, è un peccato che gli altri non potevano venire. E ma sai, con me, con i compiti delle vacanze, corsi di nuoto, preparazioni per le vacanze, insomma, tutto così. Già, andiamo. Non ci credo. Hai visto quello che ho visto io? Sì. Viola che parla, ride e mangia dolci con Sara e Anna. Ma è pazza? Perché sta con quelle traditrici? Non lo so. Non so se il caldo gli ha dato la volta al cervello. Andiamo a dirgliene quattro. Aspetta, no. Come no? Non le lascerei mica passare liscia? Certo che no, però dobbiamo valutare la cosa. Non è che possiamo entrare là e sgridarle. Dovremmo parlarne a tutti. Ma gli altri non è che possiamo chiamarli e dirgli di venire tutti qui. No, ma potremmo dargli le prove. E come? Oh, ottima idea. Chi la faremo pagare? Già, perché dobbiamo anche capire se l'una è viole dalla loro parte o sta facendo il doppio gioco per qualcosa. Perché se no, io non la voglio più nel gruppo. Ma infatti neanch'io. Dai, registra. Sì, e poi mostriamo il video agli altri e valutiamo la cosa. Un'ora dopo? Ve lo giuriamo, ragazzi. Abbiamo visto Viola in pasticceria con Sara e Anna. Non stiamo mentendo. Ma non capisco. Non mi viene in mente nessun motivo per cui dovrebbe stare con loro. Già, già al ballo di fine scuola era strana. Al ballo di fine scuola c'erano anche Anna e Sara. Stava un po' con noi e poi se ne andava. Già, secondo me stava un po' con noi e poi un po' con loro, per non fare insospettire. È davvero strano. Poi non capisco perché Viola non ne abbia parlato con me. Noi ci diciamo tutto. Già. Beh, adesso che cosa facciamo? Beh, dobbiamo chiarire questa situazione. Quindi le parleremo faccia a faccia. Ma solo con Viola o solo con Sara e Anna o con tutti e tre? Beh, direi con tutti e tre. Sì, mi sembra una cosa migliore. Eh, cosa? Chi li contatta? Io contatto Viola. Io contatto Sara. E io Anna. Ma tu hai ancora il numero di Sara? Beh, sì, non si sa mai. Magari poteva servirmi. Ok, gli dite di incontrarci tutti in pasticceria domani pomeriggio. Ok, mi sembra perfetto. Bene ragazzi, adesso io devo andare. Devo finire i compiti delle vacanze. Sì, anche io è un impegno. E anche io ero qui che facevo i compiti. Ok, allora ciao. Grazie di tutto ragazzi. Prego. Ciao. Ciao. E grazie soprattutto a voi che ci avete dato questa informazione. Di nulla. Era la cosa giusta. Già. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Tietrici nei commenti se vi è piaciuto, tutto cosa ne pensate. E bla bla bla. E ci siamo dimenticati di aprire il regalo prima, perciò lo facciamo adesso. Wow, è dorato. 3, 2, 1. Wow, una scatola con tante cose estive. Vediamo allora. Cos'è questo? Il tappetino per andare in spiaggia. bello. Mettiamolo lì. Un cappello. Wow. Poi, una borsa per andare in spiaggia. Che bella, rosa, l'adoro. Una luce da portarsi indietro e uno zaino. Anguria, sempre per andare... No, questo mi sembra più per andare in montagna. Wow, un regalo davvero fantastico. È come... 5 regali in uno. Comunque, ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Ci vediamo in un altro video. Buon sabato. Un bacione e un abbraccio. Ciao. Ciao.